Cosa hai fatto su Chloe? Carino, pensavo più una storiella banale, invece poi c'è uno sfondo più carino. Che dici del fatto che è considerato un film scandalo? Vabbè, oggi come oggi no, magari scandalo è un po' troppo. Un voto da 1 a 10? Da 1 a 10, 7. Grazie mille.